Benvenuti nella recessione di Teenage Mutant Ninja Tatlos Shared Revenge prodotto da Dottemo Gamera Games sviluppato da Tribute Games in lingua in italiano disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch Ovviamente la versione per PS4 è elettrocompatibile su PS5, la versione Xbox One grazie allo Smart Devery è elettrocompatibile su Xbox Series X e S Se caso lo avete comprato in digitale, giustamente Prezzo di lancio 39,90, genere picchiaduro 2D e avventura Parliamo un po' della trama, senza ovviamente fare colpi di scena o rovinare con gli spoiler Teenage Mutant Ninja Tatlos Shared Revenge, Bipob e Rocksteady assaltano il canale 6 e rubano dei dispositivi super malefici Che metteranno in pratica nell'ultimo piano nefasto di Krang e Shared Ovviamente le nostre eroiche tartarughe dovranno fermare a tutti i costi i piani malvaggi di questi due super cattivi Mi fermo qua per non rovinare i colpi di scena o fare i spoiler come avevo detto prima Passiamo invece dall'aspetto tecnico Come potete vedere dal video il gioco è volutamente retro Per rispecchiare i famosi picchiaduro 2D anni 80-90 PICSL Art Da 16 bit e lo fa in modo dignitoso oltretutto Il gioco offre abitazioni varie e dettagliate Se proprio devo elencare un piccolo difetto Che hanno poca interazione Cioè sono poco interattivi Ma ovviamente questo era un limite Che più o meno avevano tutti i famosi picchiaduro 2D degli anni 80-90 Quindi ci sta perché è volutamente retro Riguardo il design dei personaggi nemici è curato e sono dettagliati Ovviamente le animazioni sono in stile diciamo anni 90-80 In stile 16-15 Quindi risultano vecchie per forza Volutamente Quindi non lo mettiamo come difetto Il comporto sonoro rispecchia ovviamente la serie animata degli anni 90 Per chi è conosciuta, chi è cresciuto e ha saputo apprezzare il famoso cartone degli anni 90 Di sicuro le musiche le torneranno ben in mente Sono ben implementate E ovviamente tutto è condito con una traduzione in italiano E adesso direi di vedere se i gameplay anche quello di ottima qualità oppure no Ci vediamo tra poco Eccoci qua con la parte del gameplay Sì lo so che alcuni diranno Eh ma il gioco è volutamente retro E il gioco ha dei limiti E il gioco non mi piace perché è retro Dovevano farlo moderno Cetera e bla 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 Sì lo so ragazzi Il gameplay del gioco è il classico Picaduro DD degli anni 90-80 E volutamente retro Però ragazzi non fatevi ingannare Il gioco funziona Funziona in modo dignitoso Risulta essere divertente Impegnativo oltretutto Grazie alla varietà dei nemici E anche gli scontri con i boss Meramente Meramente Belimpegnativi Non solo l'avventura ha 15 capitoli Che potrà essere giocata sia in singolo In cooperativa Per un massimo di giocatore 4 in locale E 6 in online Che potranno utilizzare E scegliere a proprio piacimento Tra i vari personaggi Donatello Michelangelo Il maestro Splinter April O'Neill E Cassie Jones Potrete scegliere questi personaggi Anche nella modalità arcade In puro stile In singolo In cooperativa Essendo che ci muoveremo In una mappa di gioco Abbastanza diciamo grande Potremo scegliere Quali missioni fare Sia primaria E secondaria Queste missioni Saranno utili Perché daranno punti extra Che ovviamente Andranno a migliorare Il personaggio Man mano Che andremo avanti Sbloccando delle mosse Sempre più potenti Ragazzi E' vero che il gioco E' retro Volutamente Però il gameplay funziona Il gameplay Fluido Divertente E anche Bello Bello Impegnativo Poi soprattutto Se lo giocate Anche cooperativa L'aumento Del divertimento Cresce sempre di più Raga E' una cosa bella Che anche Nel giochi moderni Questa cosa E' difficile Ottenerla Il gioco E' Perfettamente Funzionante Anche nel gameplay Meramente curato E adesso Direi da passarla Se ti si pedivi Un po' Se vale la pena O no Comprare Teenage Mutant Ninja Tartus Shredder Revenge Ci vediamo Ovviamente Tra poco Scusate Mi sono un po' Perso Perché vedendo La foto del gioco Mi è ritornato in mente La serie Del cartone animato Degli anni 90 E sapete un po' Quando si nasce Con quel tipo Di cartone animato Degli anni 90 Rimane sempre Impresso La sigla Del cartone E vedere il gioco E' stato Un tuffo nel passato Un tuffo nel passato Non solo per il titolo Ma anche per lo stile Grafico Che mi hanno portato in mente I carissimi vecchi giochi Degli anni 80 e 90 E' una cosa positiva Positiva per chi E' vecchio come me Negativa invece Per chi è un giocatore Diciamo Un nuovo Giovane Che è nato Sui cartoni animati Moderni di adesso E che non conosce Ovviamente i cartoni Di una volta Un'altra cosa Che fa storcia il naso E' lo stile Retro Volutamente Ovviamente Ragazzi Vi posso dire una cosa Non guardate mai E non giudicate mai Un gioco Dalla grafica Ma più che altro Guardate i contenuti E se sa divertire E' vero Teenager Mutant Tatlos Revenger Shredder E' vero che è retro E' vero che lo stile Di gameplay E' lo stile vecchio Dei famosi Picadoo 2D Anni 90 Però ragazzi La cosa Funziona Il gioco sa divertire Ha una trama Interessante E graficamente Comunque Un bel vedere Non state tutto Sia retro I gameplay Divertete Sia in singolo Ma anche in cooperativa Si può giocare Con la stessa console Con 4 giocatori In locale Si può giocare Anche con 6 giocatori Online Con i vostri amici In pratica E vi divertirete In più c'è anche Una difficoltà Di gioco Che sa tenere Diciamo Un livello di sfida Piuttosto alto Per il giocatore Tra nemici Di vario genere Boss di fine livello Belli tosti Insomma E' bello Divertete Che io mi sento Da consigliare Anche da un prezzo Piuttosto budget 40 euro Vi portate a casa Non solo Un gioco Nostalgico Per chi è vecchia Come me Ma anche per i nuovi Giovani Potrebbero dargli Una possibilità Io ve lo consiglio Caldamente Perché è veramente E' fatto E' curato Benissimo Fluido E senza cali Di frame rate Cosa che purtroppo Succede In certi giochi Moderni Dategli una possibilità Affidatevi Bene ragazzi Questa è la fine Della recessione Di Teenage Mutant Turtle Shredder Revenger E Se vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi Fatevi sapere Anche una vostra opinione Se ci state giocando O se in caso Volete acquistarlo Ditemelo Oppure lo stesso E noi ci vediamo Per le prossime Recessioni Qui dal vostro Bombe Un saluto Anche dal resto Del team Della redazione Bye bye Ah Oltretutto Comprate il gioco Se no Scerete Sarabia No beh sto scherzando Compratelo Se vi piace Io comunque Ve lo consiglio Dategli una possibilità Affidatevi Bene Questo è tutto E alla prossima Bye bye